È stato assegnato a Porzia Ann Prebis, curatrice del Centro Studi Bassagnani, il premio Città di Ferrara 2019 Ippogrifo d'Oro. A consegnarlo è stato il sindaco Tiziano Tagliani, in una cerimonia tenutasi a casa Minerbi, sede del Centro Studi, commossa alla reazione di Porzia Prebis. Sono onoratissima e sterefatta perché l'hanno dato a me, io ho semplicemente cercato di far restare traccia a Ferrara di un grande uomo, traccia in tutti i sensi, ho cercato di creare un casa-museo, lasciare articoli, libri, tutte le cose che avevo raccolto in 25 anni di conoscenza con Giorgio. Insomma, noto con grande orgoglio che Giorgio continua ad essere apprezzato, si parla delle sue opere, si continua a pensare ai suoi progetti per Ferrara, per l'Italia, attraverso l'Italia nostra, è sempre presente in qualche maniera a Ferrara e alle cose ferraresi. Oltre al sindaco e a Porzia Prebis, a commentare il riconoscimento è stato anche il professor Gianni Venturi, co-curatore del Centro Studi Bassagnani. Era non solo dovuto ma auspicato perché raramente, come ho avuto modo di dire, una forma così poco conosciuta che si chiama amore, verso una persona o anche verso cose, libri o quant'altro, ha prodotto quello che Porzia ha fatto donando alla città di Ferrara la sua vita assieme allo scrittore. Trovo questo un atto di grandissima generosità e in un momento in cui si usa così poco una parola che invece fa parte del sentire comune fino a qualche tempo fa, ora messa un po' in dubbio, cioè la parola eticità. Cosa vuol dire moralità? La moralità è appunto mettersi al servizio degli altri, credere che gli altri abbiano gli stessi diritti nostri e soprattutto trovando attraverso le parole di un grandissimo scrittore la possibilità di renderlo comunione, cioè capacità di riuscire a integrare tutto ciò che la vita spezza e che la parola invece ricostruisce.